Non provare a tirar fuori formule o ideali o ideologie dalla vita. Non esiste sostituto per il coinvolgimento. Ti dico solo, fai quello che diavolo vuoi. Coloro che sono a caccia di illuminazione, rilassatevi un po'. Nella mia vita, nelle trattative d'affari o anche nel matrimonio, nel crescere i figli o nelle decisioni di carriera, come faccio a sapere cos'è che funziona? Sei sposato e vuoi sapere cosa funziona. Vedi, devi essere come Dio, che sei un compagno silenzioso. Allora funziona. Proprio come Dio. Qualsiasi cosa faccia chiunque, impara semplicemente a essere come Dio. Non intervenire mai in niente. Ogni giorno al mattino. Ogni tipo di idiota ti dirà cosa dovresti fare oggi. Ascolta e basta. Proprio come Dio. Il matrimonio funzionerà. potrebbe non funzionare con la tua professione. Vedi? Stai fraintendendo questo. Stai cercando di renderlo un qualche tipo di sistema di valore. Stai cercando di farne la tua filosofia. Farò solo ciò che funziona. Hai fatto un giuramento. Farò solo ciò che funziona. Ora non sai cosa funziona. perché ciò che funziona non verrà con un giuramento o un comandamento. Ciò che funziona viene con la costante osservazione ed evoluzione di chi sei. Non è così. Ci siete? Le stesse cose. Come le hai fatte funzionare. Quanto goffamente hai fatto funzionare qualcosa dieci anni fa. La stessa cosa potresti farla con agio oggi. Non è così? O potresti farla goffamente oggi. La facevi bene una volta. In qualunque senso. Qualunque tipo di evoluzione sia accaduta. Ciò che funziona non è un qualche tipo di formula. È un'evoluzione di un essere umano per arrivare a ciò che funziona a tutti i livelli di vita. È davvero come... Voglio dire, stai uscendo da un libro di autoaiuto. No, io non sono un libro di autoaiuto. Fai ciò che funziona. Fai quel che diavolo vuoi. Qual è il mio problema? Ma che senso ha fare qualcosa che non funziona? Ci siete? Non ti sto dicendo dovresti fare solo ciò che funziona. Fai quel che diavolo vuoi. Ma per la tua vita, perché è una quantità di tempo limitata, che senso ha fare qualcosa che non funziona? Non è così? O dovrebbe funzionare per te o dovrebbe funzionare per le persone intorno a te. Se non funziona per te e per nessuno intorno a te, che senso ha fare quella dannata cosa? Questo è accaduto. Dei soldati, soldati americani, partivano in servizio. Allora uno di loro disse all'altro, conosci la moglie di Steve? Ha letto i tre moschettieri e ha partorito tre gemelli. L'altro dice, oh Dio, mia moglie sta leggendo la nascita di una nazione. Che devo fare? Non è così che funziona. Quindi non farne un qualche tipo di etica o filosofia. Farò solo ciò che funziona. Solo per vedere cosa funziona. Serve tanta applicazione. Anche per le cose più dannatamente piccole. Non è così? Ci siete? Per fare una cosa piccolissima. Come colpire una palla o calciare dritto un pallone. Sai quanto ci vuole? Qualcuno che sa calciare un pallone dove vuole, il mondo intero lo venera. Solo perché calcia una dannata palla. Sì o no? Perché la gente capisce cosa richiede. Nessuno lo venera perché calcia un pallone. Perché la gente può vedere cosa ci è voluto. Non è così? La gente riesce a vedere cosa ci è voluto per essere in grado di calciare un pallone come lui. Cosa ci è voluto. È vita che ci è voluta. Quindi non tirar fuori filosofie ed etiche da ogni cosa. O non dirti un comandamento farò solo ciò che funziona. È un buon comandamento. Ma ora non sai cosa funziona. Quindi, no, no. È necessario che tu sia consapevole e ti applichi su ogni dannata cosa. Solo se impari questo. Che non decidi cosa è importante e cosa non è importante. Ero alla riunione del Consiglio di Rally for Rivers subito prima di venire qui a Nuova Delhi. La CI, cioè la Confederazione delle Industrie Indiane, anche il loro consiglio partecipava al Consiglio di Rally for Rivers perché cercano come metterlo... perché lentamente la gente sta realizzando la rilevanza di cosa è stato dispiegato. Tutti cercano di farne parte. Abbiamo un consiglio eminente. La DI del WWF, i massimi esperti di acqua, i vertici dell'organizzazione dei produttori agricoli, abbiamo un giudice della Corte Suprema. è un consiglio davvero eminente. Mentre si parlava di questo progetto Covery Calling, per ogni domanda, specialmente che avevano e facevano alcuni esperti, dicevo loro con disivoltura cosa fare. Dicevano, Sadguru, come sai tutte queste cose? Dicevo, fin dalla mia prima infanzia, ho semplicemente girovagato senza alcuno scopo. Senza alcuno scopo. Semplicemente girovagavo nelle giungle, nelle foreste, nei fiumi, e questo... ma prestavo un'assoluta attenzione a ogni pianta, ogni insetto, l'aria, l'umidità, i funzionamenti, e tutto. Ciò che era un girovagare senza scopo oggi diventa conoscenza formidabile, che non è scritto in nessun dannato libro. Per la prima volta, qualcuno parla in modo onnicomprensivo, non da un libro di testo. Questo era solo girovagare senza scopo, da bambino o da ragazzo. Semplicemente girovagavo in giro senza alcuno scopo. Persino se è senza scopo, non puoi vivere senza attenzione. Non è così? Ci siete? Fai questa sola cosa. Smetti di discriminare cosa è importante, cosa non è importante. Se presti lo stesso livello di attenzione assoluta a ogni dannata cosa, vedrai che qual è la cosa giusta da fare è un processo molto naturale. Ma tu hai già deciso cosa è importante, cosa non è importante, come evolverai, qual è la cosa giusta da fare. Metà del mondo è già abbandonato, perché non è importante. presti attenzione solo... Guardi, persino qualcuno per bene solo se sono qualcosa per te. No, io guardavo ognuno assolutamente, ogni vita, ogni dannata cosa, ogni sassolino, ogni momento che accadeva nella Terra, nell'atmosfera, tutto. Non come uno studio. Semplicemente perché avevo occhi e avevo una capacità di attenzione. prestavo attenzione a ogni cosa. Oggi dicono che questo è qualcosa di fenomenale. Io ridevo e dicevo, vedi, io girovagavo semplicemente senza scopo. Tutti pensavano che fossi solo un vagabondo. Ma ora, questo girovagare senza scopo sta ripagando enormemente. Perché non importa cosa diavolo fai, cose piccole o cose grandi, se sei assolutamente coinvolto, assolutamente, vedrai, saprai qual è la cosa giusta da fare. Stai cercando di vivere qui senza coinvolgimento. È per questo che hai morali, hai ideali, hai ideologie, hai valori, hai etiche, hai comandamenti. Perché stai cercando di vivere qui senza coinvolgimento. Vuoi la formula pronta? Qual è la cosa giusta da fare? Tu non farai, tu non farai, tu non farai. Il mondo è stato giustato, chiedo. Ogni dannato scolaretto sa qual è la cosa giusta da fare. Ha funzionato? Non ha funzionato. Perché pensi, ci sia un sostituto per il coinvolgimento. Non esiste sostituto per il coinvolgimento. Dove non c'è coinvolgimento non ci sarà vita. Quindi non cercare di tirare fuori formule, o ideali, o ideologie dalla vita. Tutto ciò che la vita richiede è coinvolgimento assoluto, coinvolgimento sfrenato. Non distinguere chi è chi, cosa è cosa, assolutamente coinvolto con ogni cosa con cui sei in contatto adesso. Se fai questa sola cosa, a seconda del tuo livello di intelligenza, e sai, anche la natura dovrebbe rendere. Con tutto questo, saprai qual è la cosa migliore da fare. data la tua prospettiva, naturalmente. Vedi, al momento, se porti un uomo con una certa capacità, potrebbe fare qualcosa in una data situazione. Quella non è la cosa giusta da fare per te. Non è così? Devi sapere qual è la cosa giusta da fare per te in una data situazione. Non sarai in grado di fare ciò che fa lui. Devi essere in grado di fare ciò che puoi fare al meglio delle tue abilità. Quella è la cosa giusta da fare nella tua vita. Non cercare di fare come qualcun altro. Quindi, quello sarà il problema nel momento in cui decidi qual è la cosa giusta da fare. No, non c'è nessuna soluzione pronta. Coinvolgimento. Non c'è sostituto per il coinvolgimento. Dove non c'è coinvolgimento, non c'è vita. Che il 2019 sia una vita di coinvolgimento assoluto. Perché se vuoi fare esperienza di questa vita, hai bisogno di coinvolgimento. Qualsiasi dannata cosa tu faccia, la farai con assoluto coinvolgimento nei prossimi mesi? Vedi, sono un guru davvero gentile, ok? Sono un guru davvero gentile. Perché non ti dico, questa è la cosa da fare. Chiunque sia venuto ha sempre cercato di dirti, questa è la cosa da fare. Io ti dico solo, fai quel diavolo che vuoi. Fallo bene. E questo non può essere fatto senza coinvolgimento. Non è così. Cose piccole, cose grandi. Le farai con totale coinvolgimento? Come ti svegli al mattino? Totale coinvolgimento. Come ti lavi i denti? Totale coinvolgimento. Come fai la cacca? Totale coinvolgimento. Come mangi? Totale coinvolgimento. Come fai il tuo shambhali? Totale coinvolgimento. In ogni cosa che fai, non distingue le cose piccole, cose grandi. Quando ho detto cacca, hai detto eh eh eh. Ok, allora non farla. Se pensi che non sia importante o se pensi sia sporca, non dovresti farla. Dico, non fare una distinzione tra ciò che è sudicio e ciò che è sacro. Ecco dov'è la chiave. Perché coinvolgimento significa anche inclusione senza pregiudizi. Nel momento in cui dici questo è sacro, questo è sudicio, puoi coinvolgerti col sudicio? Ci siete? Sarai costipato. un anno di coinvolgimento assoluto. Sì. E poi niente funzionerà. Quindi il 2019, un anno di coinvolgimento assoluto, coinvolgimento indiscriminato, non azione indiscriminata, coinvolgimento indiscriminato, puoi guardare un'erbaccia, un'erbaccia fuori, con altrettanto coinvolgimento con cui guardi tuo figlio. Devi fare solo questo. Porta semplicemente questo tipo di coinvolgimento, senza pregiudizi, coinvolgimento assoluto. Vedrai, la vita fiorirà in modo meraviglioso. 2019, devi fiorire. Coloro che sono a caccia di illuminazione, rilassatevi un po'. E siate semplicemente coinvolti in qualsiasi dannata cosa state facendo. La vita cadrà in modo meraviglioso. La vita cadrà in modo meraviglioso.